E frazione ma con un bottino comunque non elevatissimo recentemente in casa dell'ex calciatore di Fiorentina e nazionale Daniele Carnasciali, valdarnese doc. La sua abitazione è stata infatti visitata dai ladri però hanno trovato qui solo un orologio di valore all'interno con l'operazione che è durata soltanto tre minuti dallo scatto dell'allarme alla vigilia di Pasqua. Sono un orologio perché era di mio figlio che se ne è dimenticato la mattina che siamo andati al mare altrimenti non avrebbero preso niente anche perché non c'è niente tutto in cassetta di sicurezza in banca quindi in casa non avrebbero trovato niente era solo magari il danno alla finestra o alla porta dove sono entrati e forse qualche danno che potevano fare in casa che sinceramente non hanno fatto. Un'effrazione è arrivata proprio in quel ponte con la famiglia fuori dal valdarno. La casa al mare mi ha chiamato la guardia giurata perché è collegata anche alle guardie adesso metteremo anche le telecamere quindi aumenteremo magari i controlli sperando che non le succeda. Inevitabilmente a posteriori vengono in mente allo stesso Carnasciali anche situazioni di possibili perlustrazioni da parte dei ladri precedentemente al furto. Secondo me qualche sopralluogo l'avevano fatto. Durante la settimana anche il cane si era comportato in maniera diversa qualche sera però non è che avevo dato molto peso quindi secondo sì infatti aveva reagito come se se avesse visto un gatto ma secondo me poi a posteriori ci pensi e forse aveva visto qualche movimento strano. La zona in questo caso è relativamente vicina al centro anche se l'abitazione non è circondata da altre case. San Giovanni è zona le fornaci però ecco mi sembra di aver letto anche sui giornali che altre zone sono state colpite quindi diciamo che purtroppo sono in buona compagnia. Non è che dà fastidio quello che portano via anche se possono essere magari valori affettivi e quindi ti può dar noia. È proprio che ti entrano dentro un qualcosa che pensi sia inviolabile e quello ti dà noia, ti dà fastidio e quindi niente. Appunto l'allarme non è isolato visto che altre denunce sono arrivate negli ultimi mesi sia nel medesimo quartiere così come in altre zone del Val d'Arno. l'allarme è sicurezza purtroppo in un periodo prezzante dal punto di vista economico è ancora più forte.